Lino Marino, bimba mia, rigorosamente in diretta dagli studi di Air Italia e allora un saluto di nuovo alla nostra Ilenia Mezzani che ci sta guardando in questo momento da Milano quindi la salutiamo un'attrice, conduttrice e veramente poi ha avuto un successo avanti un altro con Gerry Scotti sta ordinato pronto